Europa distratta sul fronte immigrazione parla parla ma non dice l'unica cosa che dovrebbe. Siamo pronti a imporre agli stati membri di farsi carico, ognuno per quota parte, dei profughi. Il governatore del Veneto e candidato della Lega Nord alla regione Luca Zaiarriba dice che questo caos non deve ricadere sui territori e continua il governo italiano non deve tenere svegli di notte i prefetti per imporre scelte autoritarie agli enti locali ma tenere accese le luci di Palazzo Chigi trovando coraggio e credibilità per mettersi alla testa di un'operazione congiunta, immediata ed efficace che affronti la gravità del problema almeno per una volta, facendo in sede internazionale da traino invece che l'ennesima figura del barattolo trascinato attaccato a un filo. Per Zaiarriba bisogna intervenire sulle spiagge libiche, creare campi profughi umanitari laggiù, distruggere i barconi prima che vengano caricati di persone, non escludere il blocco navale, portare aiuto a casa loro. Frasi che ora ripetono tutti, dice ONU, capi di Stato e lo stesso governo italiano. Benvenuti fra noi, conclude il governatore, ho cominciato a dire queste cose da almeno due anni. Oggi, dopo migliaia di morti, mi ritrovo in ampissima compagnia. Hanno perso almeno due anni e ora cerchino di recuperare in fretta.